Stiamo con Francesca Trevisan al termine della vittoria 3-1 di Brescia qui alla Palagiorge contro Imola 8 punti per l'MVP del match, una bellissima emozione immaginiamo per te un ingresso che in modo particolare nel quarto set ha cambiato le sorti della partita Ma sì, intanto ringrazio tutte le mie compagne perché comunque torniamo sempre lì che è un lavoro di squadra e nel quarto sono contenta che si sia visto perché davvero in settimana riusciamo ad esprimere un gioco proprio unito e quindi è bello anche quando nelle situazioni di difficoltà vengono fuori appunto queste belle cose Assolutamente, Natalia Vabbè, dietro ti avevamo già visto in azione, insomma sappiamo che vieni spesso sostituita cioè sostituisci spesso shifter per dare una mano in seconda linea Invece in prima linea oggi ci hai fatto vedere tanti colpi alternando paloni forti e pallettine Tu come ti senti? Ma sì, l'ingresso in ricezione ormai per me è un'abitudine perché anche proprio nella mia carriera generale è sempre stato così In attacco sì, non è facile entrare da fuori perché comunque anche trovare, lo sai bene, trovare le traiettorie e comunque capire anche come giocano di là perché comunque Imola è una squadra che difende molto quindi anche metterle in difficoltà in difesa è stato difficile però pian piano anche guardando di là comunque anche con un po' di esperienza dai ce l'abbiamo fatta Oggi il tuo ingresso è importante anche quello di Federica Stroppa che in un momento delicato ha dato il suo insomma Brescia può contare su davvero tante armi Sì sì, ma io non ho mai avuto dubbi su questo, sono contenta anche per Fede perché davvero in allenamento ci diamo sempre Cioè lottare contro la squadra B per la squadra A è sempre difficile quindi sono contenta davvero che in questo momento di difficoltà perché comunque dopo un set perso non era facile si sia visto Grazie Francesca e complimenti, grazie, grazie